qui rispondi tu amore a parte il calcio di quale sport ti piace vedere le partite a me a tutto da padel formula 1 brava calcio un altro dai ogni tanto il tennis però poco poi l'altro giorno aspetta cosa stavi guardando una roba ho detto adesso ti sei messo a guardare anche anche questo no impossibile era il padre no 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 era che facevano calcio sulla spiaggia b soccer no no b soccer no era solo casuale non mi piace perché forse non c'era niente nel mentre vaccino per la perposse fatto e niente adesso torniamo a casa stiamo qualche giorno qui a milano perché ho incastrato tutte le visite poi ritornare al mare c'è un caldo pazzesco però guardate che bel cielo oggi no